Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale, quest'oggi partiremo, partiremo, andremo fuori, proveremo a uscire fuori, prima vediamo come muore lui, non muore, si stanno morendo tutti. Ok, proveremo ad uscire da questo pianeta e andare da qualche altra parte, sperando che il nostro fuel, quindi la nostra benzina, ci basti. Stavo pensando, prima di partire però, di fare un piccolo rifornimento, perché non sappiamo se ce la faremo anche a tornare, quindi a questo punto stavo pensando di andare a raffinare altro, ce l'abbiamo, no, ne raffiniamo un altro po' e ce lo portiamo con noi. Nel frattempo qui ho fatto le scale, per una maggior praticità nel salire e nello scendere, andiamo a prenderci un altro po', non mi ricordo mai se è qua o qua, di, possiamo fare così, no? Ok, prendiamoci un po' di questo, perfetto, andiamo sopra, qua ci manca un gradino, sarebbe meglio. Andiamo sopra, mangiamo perché stiamo un po' morendo, chiudiamo anche la porta, e raffiniamo questo, uno, due e tre. In teoria dovremmo farcela, almeno credo, perché questo è pieno, quindi G, anche perché come faccio a mettergli il fuel? Non lo so, ce lo portiamo, non ne ho la più palidea, magari sto facendo una cretinata, eh. Questa cosa di uscire così è un po' bruttina, però va bene, perché in effetti stavo pensando che solamente il loader può caricare la benzina nel rocket. Quindi non lo so, secondo me, forse ho fatto una cretinata. L'arco e frecce ce lo teniamo, forse abbiamo anche altre frecce qui, ce le portiamo. Dovremmo fare un incudine. Dovremmo fare l'incudine per riparare certe determinate robe. Allora. Che non mi ricordo, però come si faceva? Era tipo... No, non me lo ricordo. Stavo scrivendo in italiano. Ok, tre di questi, tre blocchi iron, va bene. Facciamo i blocchi di iron 1. Uno ce lo dovrei avere, ah ce l'avevo già qua, guarda. Perfetto. Quindi facciamo così. Tac! E ci siamo fatti l'incudine. E lo posizioniamo, l'incudine. Ma sì, ma va bene anche qua. Fa un casino ogni volta che metti l'incudine. Poi ci prendiamo questi. Perché se no mi ricordo male, possiamo ripararli, no? Tipo prendiamo questo. Perfetto. Eh, ce lo siamo riparati. Nel frattempo ci ripariamo anche questo. Grazie. Andiamo qua. Ne posiamo uno. E direi che siamo pronti a partire. Non so perché, ma l'acqua me la porterei. Non so perché. Ce la portiamo. Non si sa mai. Ok, signori. Stiamo per lasciare questo strano posto. Partiamo. Questo è ancora pieno. Vai. Oh mio Dio. Sono Turn left, turn right. Space. Space. I don't have a parachute. Ah, mi manca il paragatute. Quindi se non ce l'ho, non c'è modo di tornare, mi dice. Ah, questa non la sapevo. Questa non la sapevo. Quindi dobbiamo costruire. Quindi bone meal e parachute. Sì, ma il parachute come si fa? Canvas. Ok. Ok, si fa con quello. Perfetto. Proviamo. Andiamo a fare il paragatute. Allora, ci prendiamo questi. Andiamo giù. Possiamo farlo anche sopra, volendo. Va benissimo. Facciamo i canvas. Ok, ma ce ne servono più di uno, giusto? Uno, due, tre ce ne servono. Ok. Uno e tre. Poi da qui. Facciamo questo. Ok, abbiamo il paragatute. Che non so assolutamente dove dobbiamo metterlo. No, 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 no. No. Ok, abbiamo il paragatute. Vediamo un po'. Però a questo punto si è incastrato la porta. Devo cambiare. E' questo posto qua che dà fastidio. Ok, apriti, grazie. E chiudi. Wow. Pensavo potevamo già partire. Invece no. Allora, G. A questo punto ci togliamo questo. Plancia. Ok, non ho un paragatute. Se io premo... Se io premo... Ho capito, ma... A questo punto è questo? A questo punto l'unico è quello lì. Ah, così esco. Beh, figo. Ok. A quel punto... Dovrebbe essere qualcosa lì. Cioè, metterlo... Questo qui... Non me lo fa cliccare. Ok. Non lo so. C'è qualcosa che non mi qualpe. Il paragatute c'è. Ok. Ok. Ho capito. Sono stupido io perché non mi ricordavo. Eh, dovevo metterlo qui. Esatto. Ma a questo punto... Dovrebbe avere... Oltre che quello... C'è tipo... Qualcosa per respirare. Eh, sì. Perché se no muoio nello spazio, giusto? Eh, perché a questo punto se io non ho una tuta... Muoio nello spazio. Cioè, mi serve, esatto, uno space suite. Questo qua. Dobbiamo fare questo. Allora. Vediamo un po'. Ehm... Questo. Quindi se io adesso faccio così... No, è un'altra. Unprepared. Dobbiamo fare... Ah, ok. Dobbiamo fare tutta sta roba. Vulcloth. Otto vulcloth. Ok. Vediamo un po'. Allora. Perfetto. Poi. Otto vulcloth. Ci servono i layer. Questo si fa con l'alluminio. Uno, tre, quattro alluminio qua dentro. Esatto. Andiamo a cosa tira fuori. Perfetto. Perfetto. Uno e due. Perfetto. Ne abbiamo due. Oh, perfetto, perfetto. Poi ci servono uno, due e tre di questi. Con oxygen concentratore. Quindi steel, tin canister e oxygen vent. Compressed tin. Allora. Allora, gli steel ci servono e compressed tin. Iniziamo. Perfetto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, siamo bardati, ce l'abbiamo fatta, siamo pieni zeppi, ce l'abbiamo fatta. Siamo bardati, adesso in teoria possiamo andare? Ok, allora dobbiamo farci questo e ci siamo. Poi dobbiamo farci questo perché secondo me se andiamo nello spazio moriamo. Compressed bronze ce l'ho. Via. Quindi questo, questo, via con questo. Non so come funzioni, adesso lo testiamo. Dunque, questo qui, scusa se lo metto qua? No. Però scusa, posso metterlo qua sopra. Esatto. Oh, ancora meglio. Qua sopra. Oppure qui? No, perché entra di là. Quindi possiamo metterlo qua. Prendiamo un cavo, lo alimentiamo. Ok. E da qui dovrebbe uscire qualcosa. Allora, oxygen compresso. Oxygen canister here or use a connect oxygen supply. Quindi, questo. Eh, ho capito. Oxygen canister. A cosa servirebbe? Oxygen collector. Questo è il compressore. Collector. Oxygen collette from leaves in the surround area. Ah. Quindi questo qua ci serve. Questo ci serve. Allora. Vediamo, eh. Ah, allora, 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 allora. Cosa ci manca? Ci manca la griglia. Ci manca... Tin. No, questo è iron. Lo stick ce l'ho. Ci manca questo. Aspetta che ne facciamo due. Dovrebbe essere giusto. Uno, due. Andiamo qua. E avevamo detto di fare questo. Che ci manca questo. Ok. E quindi lo andiamo a fare. Questo. Track e track. Ok. Ma... Dov'è il compressor? Che io non lo vedo? Cioè, si è distrutto. C'è questo qua. Ok. Se faccio così si distruggono? No. Non lo prendo. Dov'è? Ah, eccolo qua dietro. Mi ero spaventato. Ho detto, l'ho perso. Lo mettiamo qua e sopra. Gli mettiamo... Questo. Quindi. Uno, due. Che io non lo so se questo qua è giusto. Cioè, secondo me è così. Uno, due. Cioè, io penso che sia così, eh. Ma se mi sono bloccato, non posso più uscire. Ok. Attivo. Posiziona oxigen canister here. Ah, forse serve questo, lo storage. Esatto. Aspetta, eh. Come si fa lo storage? Con... Questi qua. Questi qua si fanno... A buffo. Red Bull. Red Bull. Ma lo posso fare con qualsiasi vita anche, giusto? O per forza con quello rosso. Eh, non sa chi lo vuole per forza con questo. Red Bull. Questi qua. Tre ce ne vogliono. Quanti ne ho io? Due. Ne manca un altro. Proviamo. Vediamo un po' cosa succede. Dunque. Tin ingot. Ok. Vabbè. Facciamo. le rose. Ma se è sicuro, io non le troverò. Ne ho trovate a bizzeffere. Corri, corri, corri. No. Era lì che aspettava quel momento. Cioè, proprio... Non vedeva l'ora di fare quello che ha fatto. Dopo aver riparato il danno fatto, e recuperiamo le rose. Che ce n'era una sola. Tra l'altro. Vabbè, là sotto ce n'è altre. Possiamo creare quella schifezza lì che diceva lui. Ne abbiamo due. Ce ne servono tre. Quindi dobbiamo andare a prendere i tulipani. Però lì ci sono delle rose, quindi possiamo andare a prendere l'ora. Uno. E due. Eccole qua. Roselline, rose belle. Andiamo e distruggiamole. Allora, via. Perfetto. Sicuramente non abbiamo abbastanza lana bianca, quindi dobbiamo andare a prendere un po' di lana. Qui posiamo oggetti che non ci servono, perché ci stiamo... e riempiendo di schifezze prendiamo le forbici, questo lo mettiamo qua. Considerando che ancora abbiamo... Dov'è la tuta spaziale? Io avevo la tuta spaziale indossata. Avevo messo il canister qua e il paracadute. È scomparsa la tuta spaziale, sicuramente. o si è consumata, si è deteriorata. No, ho sbagliato. Scusa, 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 scusa. Io avevo la tuta spaziale. Vuol dire che si consuma? Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Io mi ricordo che abbiamo costruito la tuta spaziale e mo' l'abbiamo persa, ma come... Cosa vuol dire? Non lo so. Vabbè, andiamo a crearci questo. Uno. Due e tre. Poi. Ah, sì. Ah, potevamo... No. Questo. Uno. Sì, però aspetta. Ah, ne vuole tre. Ah, sì. Abbiamo bisogno di... Tanta, tanta... Di questo. La nazione. Dove andare a prendere le rose. Alla ricerca delle rose. Ho raccolto le rose. Adesso vediamo un attimo. Oltre che tulipane, eccetera, eccetera, queste cose non sono state mai così importanti quanto adesso, praticamente. Quindi... Vabbè, questo lo potevamo fare anche... Così. Ok. Allora. Magari è meglio fare così. Uno. Tre. Quindi uno. Due. E tre. Cerchiamo di non sprecare, perché ho capito che qui... Uno. Ah, questo non si può accatastare. E manca uno di quelli. Mi manca uno di questi. Ah, sì. E tre. Perfetto. Adesso possiamo farlo cortesemente. Grazie. Finalmente. Perfetto. Quindi questo qua come funziona? Verde. Rosso. Quindi in teoria... Se noi facciamo così... Così vediamo se quel tubo funziona. Noi lo possiamo mettere qua. No. No. Così. Esatto. Prendiamo questo. Non passa nulla. Eh no. Perché deve entrare di là. Giusto. Deve fare così. Uno. Non so cosa sto facendo. Ma ci provo. Quindi da qua... Deve uscire. Andare di qua... È una schifezza questa cosa. Andare di qui è così. Ora dovrebbe passare. Credo che questo tubo qui non funzioni come dovrebbe. Ma allora... Se questo non funziona... Se noi rompiamo questo... E facciamo quell'altro... Signori io non l'ho capito perché non funziona. Magari è buggata la mod. Facciamo un altro test. Ovvero... Togliamo questo. Lo prendiamo al volo. Togliamo questo che non serve. E gli mettiamo questo. Così. Qua. Si riempie. Togliamo anche questi. E questo. Ok. Allora. Questo la raccoglie. Questo va qui. Il tubo... Va così. E qui. Gli mettiamo questo. Al contrario. E poi... Gli colleghiamo. Questo. Questo è l'unico modo... Per far funzionare... Questa roba. E poi gli mettiamo... Questo. E lui riempie. Prendiamoci anche questo. E... Lo andiamo a piazzare qua. Così abbiamo l'ossigeno. Avevamo questo... Ma è scomparso. Quindi... Non lo so. Perché. Forse è stato un bagno. Bene. Signori. Ci siamo procurati anche l'ossigeno. Direi che... Per oggi è tutto. E... È stato un po' tedioso. È un po' lunghetta. Alcune cose non si capiscono. E... Devo ancora... Capire bene... Alcune... Cosette. Magari vediamo... Darò uno sguardo alla wiki. O qualcosa. Vediamo un attimo. Perché i tubi non funzionano. E con questa bella pioggia che vi saluto. E vi auguro la buona serata. Grazie di essere stati con me. Spero che vi sia piaciuto. Che vi abbia portato un pochettino di compagnia. E come sempre siete mitici. E alla prossima. Bye bye. Bye. Spero di essere stati. Spero di essere stati. Spero di essere stati. Spero di essere stati. Ci sono stati. Spero di essere stati. Spero di essere stati. Grazie a tutti.